Foglianese Foglianese, paese del Beneventano, posto al centro della valle vitulanese, è circondato da verdi e ubertose colline. Si adagia dolcemente sotto il Monte Caruso, dove i caseggiati dapprima sembrano immergersi tra le abbondanti coltivazioni di olivie e di vigneti, per poi addentrarsi e raggrupparsi verso la zona centrale del paese. Da visitare a Foglianese è l'eremo di San Michele, situato sul Monte Caruso, la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, la chiesa dell'Arciconfraternita del Santissimo Corpo di Cristo e la parrocchia di San Ciriaco. Foglianese è conosciuto soprattutto per la tradizionale festa del grano, che attira migliaia di persone della valle il 16 agosto di ogni anno, in occasione della festa di San Rocco. Altro vanto di Foglianese è costituito dal settore artigianale, che sta avendo un proliferare di attività, dalle fabbriche di prodotti plastici, alla tipografia, ai frantoi, al mulino. Fabri e falegnani ed altri artigiani continuano a mantenere viva un'antica e rinomata tradizione.